Presidente, un commento al discorso del Presidente Mattarella? Intanto sono contento ovviamente che il Presidente ha voluto essere presente all'apertura dell'anno accademico della Sissa perché è una realtà di carattere internazionale, una di quelle eccellenze del Friuli Venezia Giulia che dobbiamo valorizzare. Ma dobbiamo valorizzare anche nel post ricerca. Noi abbiamo in mente proprio questa fondazione insieme ad Area Science Park e insieme a realtà private al fine di accompagnare la ricerca non soltanto nella creazione di start-up, nella nostra regione ce ne sono molte e crescono molto, ma nella permanenza nel mercato. Che è diciamo che il tutto post incubazione, tutta la parte post incubazione manca a livello europeo. Se noi riuscissimo a portare avanti un progetto del genere, che sarebbe uno dei primi a livello internazionale, potremmo fare di Trieste, del Friuli Venezia Giulia, una di quelle aree di riferimento di tutto il centro-destro Europa. Infatti l'appello che facciamo, io ho avuto anche incontri di carattere internazionale, sto proponendo anche ad altri paesi di entrare nella fondazione, perché non deve essere una cosa che guardano i stessi, ma una cosa che guarda il mondo, perché questa è la ricchezza della nostra regione. Ma lei aveva già parlato, scusi, di questa fondazione? Noi l'abbiamo già finanziata nel legge di bilancio del scorso anno per iniziare un percorso, un percorso che ovviamente non è immediato, però mi auguro che possa trovare buoni frutti, lo dico chiaramente, anche nel mio viaggio in Israele ho presentato alle realtà locali di quel paese quanto stiamo progettando di fare in Friuli Venezia Giulia.